Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! L'elgato così e la tua web così. Almeno quando stai lì con l'M4 e fai... così, almeno c'ha un senso. O tipo il pompa gli fai... non lo so come cazzo glielo fai tu. Almeno zio Pera gli dai un senso. È un upgrade per il fatto che è toscano. Visto che i toscani sono tutti rincoglioniti in realtà. Io odio. C'ha due spalle grosse così. C'ha una schiena fra te che è il quadruplo della mia. Non si capisce che cazzo le genetica c'ha. Cioè sì, semmai veramente io e Sofia facessimo un video, poi devo andare. Eh, tu sali tutto in cima. Eh, poi? E poi? E poi facciamo una pontificazione che va sullo stretto cuore. Guarda, esatto, esatto. Ma che stai a fa? C'ha matta! Ma che cosa fai? Merda! Ti stai fottendo tutti! Già, no! Torna su! No! No! Vabbè, deserve it, eh, però, eh. No, no! Deserve it! Deserve, cioè, sì. Stavo provando a bildare una cosa! Ma avete spinto! So cascato! So cascato! Scendo! Cado nell'acqua! Porco Dio! Mi ritrovo un cane di merda che esplode e che mi one-shotta! Deserve it! Porco Dio! No, tutta la roba è caduta lì sotto, mo! Dippami! Io non ho capito bene quello che bisogna fare, in realtà, vi dico la verità. Allora. Allora, vediamo che bisogna fare. Eh, capiamo un pochino, Amio! Ma perché se stanno a... Ma ci stanno questi altri sotto che se stanno a menà! Ma perché... Ma pure... Ma pure un altro se stanno a menà! Ma che cazzo... Ma che cazzo sta a menè! Ma guarda tutti quelli che stanno lì, se... Taglie! Ma che cos'è? Ma non pensavo, regà, non avevo idea! Insopportabili! Sì, sì, sono un po' esagerato. Mamma mia! Letali! Comunque sì, ho scusato. Che cosa c'è? Sì, ma regà, ma se c'ho uno di vita, teoricamente... Ma no, ce l'avevo davanti. Martex, manco io a sparare. Oh, ma che doppietta che ho fatto, ragazzi. Minchia su, Gio. Bravo, Power. Bravo, Power. Bravo, Power. Bravo, Power! Easiest game of my life. Easiest game of my life. Mamma mia, signori, sono il fenomeno. Sono il fenomeno! Sono il fenomeno! Ciao, Pizz. Sono quello che gioca a LenoBild. Non è conoscete la parola con la G. Con la G. Perché ieri, 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 non capivo. Sì, c'è una grevissima con la G. Però, non, però, non sappiamo ancora se è bannabile, quindi non lo so. Ma finisce conone? Con cosa fa rima? Finisce conone? Con che fa rima? Eh. Medici. Che cazzo? Ah, G. E che è? Gaia Glergy? Io voglio prendere tua madre, voglio tirare un cazzotto fortissimo dietro la nuca, in modo tale che si appiattisca il più possibile, rimanga tutta solidale su una scrivania di marmo, in modo tale che le tette si inturgiliscano, perché il marmo è freddo, capito? E poi li faccio due fori con il trapano, li prendo i capelli e li tiro con due pezzi da cinquanta città, facendo storie in camicia vicino al mare. Quindi sarà partito veramente per andare a mare, a Ostia. Nei prossimi quindici anni. Pensavo chissà che... Sino è niente. A me Marco mi arriva al secondo, Marzò. Eh, neanche a me è arrivato. A me è finito. Hai fatto la bestia? Sei piante da nulla! Eh, beh, i wild, sì. Porco Dio, hai stato i wild per verdi! Oh, ehi! Eh, però col venti sì. Ehi, 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 ehi! Ehi, cristiano! Sfa, da, ci, vi! È uscito! Sfa, da, ci, vi! È lui! Il re di tutti i re! Il servente di FIFA! Un mille per, eh, mille... Questa sarà la manata da Erbo. Vedi perché avevo questo lol in testa? Eeeh... Adriano Ceci è conosciuta per le sue doti incredibili a... Non era la teatlist dell'istrehammer? Non vedo il fazzone. Fare tante cose. Hank è molto bravo, a me piace. Fa dei contenuti alle volte. Io ho tutti quei contenuti di chiacchiere... Chiacchiere così un po'... In realtà non è vero, no, nel senso... Allora, sai, sai, a me fa ridere perché... Con Hank tu vedi come alle volte... Tu cascavo con quest'altro? Anzi, 1v1 lo voglio. E fai sto 1v1. Le magno, che si vederò. Le magno. Stai sicuro? Sì, sì, vai. Aaaaaah! Ma non durò un secondo, figa. Cioè perché mi... Mei coglioni, ma che... Ma che avevi visto che c'è stava? Veramente una gabbola. Ne lo so! Ho fatto un'animazione stranissima. Au, Pizzo. Abbiamo... Pizzo, da... Ti... Ti aspetto. Grazie per l'oste, buonasera. Pizzoni. Suppongo. Cioè almeno dico sempre... Oni o... Con gli altri. Raja, Coli, Arturo, Vico, Elite, bentornati, benvenuti. Dai, che palle, non mi va di alzarmi a prendere la web. La pio dopo, signori. Qui bisogna procedere con cautela fino al fondale. Cosa fa rima con il socio? Tua madre è quella troia, Alessandro! Primo messaggio in chat è cosa fa rima con il socio. Mio Dio! C'hai la mamma che è una mignotta! No, Lele Adani fell from my place. Tipami e dammi tutto quello che esiste di diamantato, grazie. Il Masseo ha questa allucinante fissa per la quale io sia completamente un'altra persona rispetto a... A quello che sono. Adesso proverò, proverò a... No, non... Ha smesso di imitarmi. No, in realtà non è vero, il Masseo è solo un figlio di Troia. No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. No, non è vero. No, non è vero. Eeeh, questa zona labirinti. Madre di Dios, ma che casino è? Dobbiamo separarci e... Tutto bene? Chill, 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 chill. Non c'è la mamma. Ma che cazzo? L'ha fatto anche a me, però vedi perché ti dico che non ho paura. Gli alert oggi, elements, è fottuto, eh. Ehm... Oh! Era un uomo grosso, era dalla punta al puto, era un lungo. Ehm... Ma fa culo la chiesa! Diamo fuoco a tutto! Ciao Alec, grazie per il sta parranda. Ma sì, ma è un fenomeno quest'uomo. Ma scusa, io sento quanto parlano. Ma è un fenomeno quest'uomo, sì. Ma è un fenomeno, Nova. E vi lascio quest'uomo.